Brescia ha cambiato colore, com'è con la nuova giunta? Ecco, hanno raggiunto un anno di amministrazione del bono e i primi risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti. È un'amministrazione che pensa più agli immigrati e extracomunitari, più rispetto alla sicurezza e al bene dei residenti cittadini bresciani. Ecco, come sta andando questa raccolta firme? Raccolta firme è iniziata la settimana scorsa, ovviamente utilizzando il nostro strumento principe che sono i gazebo, dove noi ci avviciniamo alle persone e direi che le persone, i residenti, stanno rispondendo abbastanza bene. Hanno già raccolto 200 firme nella prima giornata di raccolta e quindi l'obiettivo si avvicina sempre di più.